Sono Luigi e sono anche io cliente con proprietà di Global Intercode, perché scegliere Global Intercode? Perché nel 2018 facciamo tutto grazie all'internet, interagiamo, acquistiamo le scarpe, facciamo un viaggio, quindi perché non avere anche un reddito da un'attività online? Grazie a Global Intercode, in un negozio online di oro 24 carati, possiamo accumulare oro e accumulare ricchezza e soprattutto avere tempo libero, cosa che con il lavoro tradizionale oggi si fa fatica sempre di più a fare.